Che cos'è Twitter? Twitter? Sono ignorante in materia Messaggi, mandano i messaggi informatici Cosa serve Twitter? Twitter? Twittare? Che ne so io? Chattare? Comunicare con un altro? Twitter è un per di Facebook Ma Twitter è l'antagonista di Facebook? No, ma le chiede obsolescenza, programmata Twitter? No Ma sì, Twitter è una cosa di telefonino, non so, di andare in rete Twitter? Non mi interessa Twitter? Non mi interessa